Fitopolis è un libro sulle città, su come sono costruite oggi le città, su quali sono davvero i motivi che ci legano, che portano alla costruzione delle città come le conosciamo oggi e come potrebbero e dovrebbero invece essere costruite. È un po' in linea con tutti i libri che io ho scritto fino ad oggi, cioè l'idea che tutto quello che noi abbiamo prodotto, noi uomini, fino ad oggi, abbia avuto e abbia come unico modello il modello umano, il modello animale. Tutto quello che abbiamo prodotto è stato prodotto e costruito perché è a imitazione di come siamo fatti noi. E invece io sostengo che ci siano degli altri esseri che compongono la grande maggioranza della vita, che sono le piante, che sono in realtà un modello che noi dovremmo studiare e dovremmo imparare a imitare. Quindi Fitopolis è questo, è una storia della città fino ad oggi, quindi una storia della città umana e un'immaginazione invece di come dovrebbe essere una città vegetale.